Riprendiamo da Popoli dove sta per iniziare il secondo tempo tra il Cugnoli e il Moro Pagani che ha incontro valido come finale playoff del campionato di seconda categoria. Girone B chi vince a proda in prima categoria, primo tempo sostanzialmente equilibrato con occasioni che non ci sono state né da una parte né dall'altra. Soltanto una clamorosa al 42esimo minuto, il calcio di rigore fallito dal giocatore del Cugnoli Di Cecco che ha mandato sulla traversa la vera grande opportunità del primo tempo da una parte e dall'altra. Nel secondo tempo qui a Popoli nel Cugnoli non è rientrato il numero 8 Di Francesco, al suo posto dalla panchina è stato chiamato in campo Gianluca Di Donato. Di Francesco che era uscito accompagnato a spalla dai sanitari del Cugnoli e adesso non è rientrato dopo i 15 minuti tra il primo e il secondo tempo. Dunque Cugnoli che perde per infortunio il suo numero 8, attaccante, protagonista di parecchio movimento nel corso della prima frazione di gioco. Qualche difficoltà l'aveva creata anche se comunque ben controllato dalla difesa della Paganica. Paganica in completa tenuta blu quest'oggi, il Cugnoli invece in maglia bianca. Pantaloncini e calzettoni rossi per la formazione pescarese. In questo secondo tempo il Cugnoli attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Naturalmente da sinistra verso destra il Paganica. Paganica che adesso in difesa intercetta con Fabio Gabriele di testa però la sfera ancora in possesso del Cugnoli. Poi il colpo di testa di Lombardi è recuperato da Jovenitti che va al rilancio. Bucci è da solo. Anzi era Di Marco, scusate, il rilancio. Fase confusa in questi momenti qui a Popoli. Poi interviene il direttore di gara che fischia. Il calcio di punizione è battuto dal numero 4 Sciarra. Ancora un fischio, ancora un intervento del direttore di gara che ha in mano un cartellino. Attenzione, vediamo chi è il giocatore che sarà ammonito. Probabilmente è Marulli che viene ammonito per questo fallo su Nico Sciarra. Dopo appena due minuti e mezzo in questo secondo tempo, punteggio sempre bloccato sullo 0-0 di partenza. Cugnoli che in qualche modo dovrà cercare di accelerare i tempi, visto che la posizione di classifica al termine della stagione regolare non lo favorisce rispetto ad un Paganica che invece potrebbe arrivare ai supplementari e chiudere sulla parità per festeggiare il salto di categoria. Ancora fallo di Marulli. Battuto il calcio di punizione. Sciarra. Per l'altro Sciarra, Nico, il neo entrato, il numero 15 di Donato. Poi Pallafuori. Quindi sono due e di Donato in campo, il numero 15 Gianluca e il numero 9 Francesco. Pronto alla battuta Sciarra. In profondità verso di Donato, anticipato, questa volta tutto regolare. Marulli appoggia per Lombardi, pallone in verticale verso Rossi, però è più veloce di lui. Il numero 5 Simone Di Francesco che lo anticipa in fallo laterale, rimessa che sale a battere Alfonsetti. Da uno sguardo in area di rigore, vediamo se la fa lunga all'interno dell'area avversaria. Pallone respinto da Di Cecco, poi Nico Sciarra al rilancio. Mette per la terra Di Matteo. Gioco pericoloso, forze di Castellani, lascia proseguire l'arbitro. Giovenitti tenta di superare Di Donato, vi riesce ma si trascina il pallone fuori. Premessa per Giovele Sciarra, il numero 7. Colpo di testa di Di Donato a prolungare però sui piedi di Castellani. All'indietro verso Giovenitti, pallone lanciato in profondità, pallone lunghissimo. Si perde abbondantemente a lato rispetto al palo alla destra di Mucinelli. Mucinelli pronto al rilancio da fondo campo, intanto comincia a piovere qui a Popoli. Giornata davvero cupa. Battuta la rimessa, non è un granché, il pallone non ha superato neanche la linea di metà campo. Cerca di mettere ordine Castellani, pallone a sinistra molto bene per il numero 11 Di Marco. Di Marco alle prese con Sciarra, parte il cross sul secondo palo però esce prima di toccare terra. E quindi ancora una volta il Cugnoli può beneficiare della rimessa dal fondo. Se ne sono andati i primi sei minuti di gioco nel corso della ripresa. Va al rilancio Mucinelli, questa volta bene. Fabio Gabriele sfiora soltanto con la fronte. Poi Sciarra cerca di far arrivare a Gianluca Di Donato. protegge Bucci l'uscita di Mastracci che è andato già al rilancio. Pallone al centrocampo recuperato dal Cugnoli. Con Di Donato messo fuori poi dai giocatori del Pagani che è di nuovo la rimessa verso Di Donato. Questa volta è lui a toccare per ultimo. Alfonsetti colpo di testa in avanti da parte di Lombardi però in una zona dove Rossi non può arrivare. Adesso è Nico Sciarra che manovra. Ottimo il lancio verso Di Donato. Esce bene Fabio Gabriele, tocca con il mancino, la mette fuori. Sventa questa minaccia. Ancora Sciarra alla battuta. Tocco all'indietro. Per il numero 4 Nico Sciarra che è anticipato. Poi ci mette una pezza mazzocca. Dall'altra parte Alfonsetti libera la sua metà campo. Colpo di testa ancora dei difensori del Cugnoli con il numero 2 di Marco Mappaganica che recupera la sfera. Se ne va Rossi. Questa volta è lui a subire fallo e a guadagnarsi questo calcio di punizione. Siamo ai 20 metri dalla porta difesa da Mucciarelli. Vento forte, pioggia qui a Popoli. Condizioni che potrebbero davvero creare difficoltà ai due portieri. Il direttore di gara indica ai giocatori del Cugnoli che sarà lui a fischiare sulla sfera di Marco. Molto probabile un attraversone in area di rigore dove è salito anche Fabio Gabriele, difensore centrale, per cercare di sfruttare le sue dote aeree. C'è anche Castellani nei prezzi del pallone. Castellani che va alla battuta però sbagliano lo schema. Non si capiscono con Di Marco, Castellani e Di Marco. Pallone troppo lungo. Già rimesso dal Cugnoli che riparte sul suo settore di sinistra. Pallone affidato ad Andrea Sciarra che si guadagna la rimessa laterale. Pronto Tacci. Servito in avanti di Donato, ancora Tacci. Finta di crossare, poi appoggia centralmente al numero 6 Mazzocca. Gioele Sciarra, difettoso il controllo, non riesce a tenere in campo il pallone. Batte Alfonsetti rapidamente sul petto di Fabrizio Rossi. Cerca di far filtrare per Marulli che si era inserito. Ha scivolato il numero 4 ma il pallone era corto. Ancora Sciarra in avanti ma ancora l'anticipo da parte di Alfonsetti. Cerca compagni centralmente. Trova invece Di Cecco subito in avanti ma la posizione del numero 9 di Donato era irregolare. Si è alzata la bandierina dell'assistente. Prontamente fischiato il calcio di punizione da parte del signor Giorgio Di Cicco di Lanciano che dirige il match. Il decimo minuto va Mastracci al rilancio, al limite dell'area di rigore avversaria. Colpo di testa ancora di Francesco. Fallone per Andrea Sciarra. Teckel scivolato di Castellani. E poi il rilancio sulla schiena di Castellani. Rimessa con le mani di nuovo per Tacci. Sciarra prolunga in avanti. Non ci può arrivare però Di Donato. Rilancio di Alessandro D'Alfonso. Tenta Lombardi ma non arriva su questo pallone. Quindi Cugnoli che manovra con Tacci che dà a Bucci. Quindi Di Donato. In qualche modo gestisce questo pallone. Fa arrivare a Sciarra. Cerca di puntare D'Alfonso. Fa partire il cross. Fischia il direttore di gara. Irregolarità nell'area di rigore del Paganica commessa dai giocatori del Cugnoli. E Mastracci ancora una volta sarà protagonista della battuta di questo calcio di punizione. Va con il destro sulla testa di Rossi che prolunga in avanti verso Lombardi. Ma ancora quelli del Cugnoli bravissimi nella fase difensiva. Adesso Nico Sciarra al rilancio. Anticipo da parte di Alfonsetti. Non trova il pallone. Lo trova Fabio Gabriele che per ora in mia sui piedi dice. Ecco ma pallone recuperato dal Paganica con Castellani. Quindi Giovenitti e anticipo di Bucci. Colpo di testa di Fabio Gabriele. Alfonsetti ancora per il Paganica. Sul piede sinistro di Gianluca Di Donato. Rimessa in gioco con le mani. Già effettuata. Però l'arbitro dice che si deve ripetere. Perché c'è una sostituzione tra le fila del Paganica. All'undicesimo minuto di gioco. Esce ci pare Giovenitti ed entra in campo con la maglia numero 18 Mirko Giambernardini. Quindi secondo cambio dell'incontro. Fuori Giovenitti. Undicesimo secondo tempo in campo Mirko Giambernardini. Classe 1974. 40 anni a luglio per lui. Attaccante. Vediamo come si posizionerà sul terreno di gioco. Probabilmente sarà la spalla per il centravanti Fabrizio Rossi. Pallone adesso oltre la linea di fondo campo per il calcio d'angolo in favore del Moro Paganica. Persiste lo 0-0 di partenza tra le due formazioni. Di Marco con la maglia numero 11 dalla bandierina per il Moro. Alla battuta del tiro d'angolo. Parte il traversone. Pericolosissimo. Un paio di metri dalla linea di porta. Nessuno trova il pallone. Né Fabio Gabriele che era salito per sfruttare i suoi centimetri. Né i difensori del Cugnoli. La palla si perde dalla parte opposta. Mucciarelli ha la rimessa in gioco. Va con il destro il portiere pescarese. Il pallone che non arriva neanche alla linea di centrocampo. Ed è il Paganica che recupera con Gian Bernardini che chiama il pallone. Pallone che però non gli arriva. Vola a terra il numero 4. Sciarra. Nuovo fallo dei giocatori del Moro Paganica. Calcio di punizione. Nuovamente per il Cugnoli nella propria metà campo. Di Francesco Corto per Bucci. A sinistra fa viaggiare Taci. Però è affrontato da Lombardi il Paganica che si stringe attorno ai giocatori del Cugnoli. Fallo laterale nuovamente. Eccolo qua. Taci. Terzino sinistro pronto alla battuta. Gioco un po' confuso in questa fase. Alla fine sbroglia la matassa Fabio Gabriele che spazza in avanti. Dove però non ci sono compagni direttamente tra le braccia del portiere. Anticipo netto da parte di Bucci però pallone recuperato dal numero 4 Nico Sciarra. Quindi Marulli. Adesso Castellani bene a destra per Bucci. Parte il cross troppo però sul portiere. che non deve far altro che raccogliere questo traversone da parte di Bucci. E quindi il rimio di Bucciarelli completamente sbagliato. direttamente in fallo laterale all'altezza della linea mediana. Bucci per la rimessa. Prolunga di testa Lombardi per Mirko Giambernardini. in area di rigore verso Rossi. Palleggia il pallone. Cerca lo spazio per concludere. Non lo trova. Il Cugnoli può liberare ma ancora Paganica all'assalto. Parte il cross questa volta di Alfonsetti. Fabio Gabriele sulla ribattuta di testa. Ancora sul numero 10 di Cecco. Che cerca di far ripartire i suoi. Poi Cugnoli che tenta di ragionare con Sciarra. Ma ancora break del Paganica. Adesso Alfonsetti vertice dell'area di rigore. In aria per Giambernardini. Che la calcia fuori. Occasione importante adesso. Sedicesimo minuto. Giambernardini. Occasione importante per lui. Pallone offerto da Alfonsetti. Ha calciato di prima di piatto destro. Pallone che ha terminato sul fondo. Non lontano. Sopra la traversa. Della porta difesa da Muccinelli. Dunque Paganica pericolosa. Bucci alla battuta. Ancora verso Giambernardini. Vorrebbe il fallo. Non è di questo avviso l'arbitro che lascia proseguire. Il Moro che guadagna metri. Ancora Bucci in possesso di palla dalla linea laterale. Marulli da lontano. Con il destro. Non trova la porta. Ha controllato la traiettoria. Il portiere Muccinelli. Mentre sta cominciando a piovere davvero forte. Qui a Popoli. Dove si sta giocando la finale playoff del girone B. di seconda categoria abruzzese tra il Moro Paganica e Cugnoli. Punteggio sempre 0 a 0. Ma occasione clamorosa sul finire della prima frazione per il Cugnoli. Che ha sbagliato un calcio di rigore con Di Cecco. E adesso occasione importante nella ripresa. Al sedicesimo minuto con Giambernardini. Che da buona posizione ha calciato di poco alto sopra la traversa. Adesso è il diciottesimo minuto con il Paganica che attacca con Rossi. Pallone per Giambernardini. Passaggio di ritorno. Ottima l'idea del pallonetto. Da parte di Fabrizio Rossi. Però non trova la porta. Il numero 9. Paganica che però in questi minuti si sta facendo pericolosa. L'ingresso in campo di Giambernardini. Lì davanti sembra dare qualche soluzione in più alla formazione di mister Mauro Scimia. Ancora Paganica. Ancora Giambernardini sul settore di destra. Anzi era Marulli in questa circostanza. Ha cercato di superare l'avversario diretto. Ha guadagnato un tiro d'angolo. Lascia la battuta a un compagno Marulli. Si va a posizionare al limite dell'area di rigore. Mentre dalla bandierina si avvia Di Marco. Pronto Di Marco all'esecuzione del corner. Parte con il destro. Pallone sul secondo palo. Troppo lungo. Per Fabio Gabriele che come al solito era salito. Pallone che si perde in fallo laterale dalla parte opposta con Gioele Sciarra incaricato della battuta. Pallone verso Nico Sciarra. Poi si lotta a centrocampo con Castellani che manda fuori ma subisce il fallo. Il capitano del Moro. E quindi calcio di punizione per gli Aquilani. Di Marco sul punto di battuta. In area di rigore come al solito Gabriele. Naturalmente Gian Bernardini. Anche Alfonsetti. Lombardi più defilato a destra. Pronto Di Marco alla battuta. Parte il tiro cross. E c'è il gol. Gol da parte di Di Marco. Con il Moro Paganica che si porta in vantaggio. Una botta violentissima. Da parte del numero undici Di Marco. E dunque il Moro Paganica si porta in vantaggio al ventesimo minuto esatto. con Aladino Di Marco. Grande botta da oltre 30 metri. Dalla posizione che aveva assunto il numero undici. Avevamo avuto l'impressione che potesse trattarsi di una conclusione del genere. Cioè un pallone calciato forte in area. Magari per il tocco di qualche compagno. Invece non c'è stato nessun tocco. Il pallone ha rimbalzato davanti al portiere del Cugnoli. E si è infilato in rete. Moro in vantaggio. Ventesimo. Ventunesimo in questo istante. Uno a zero per la formazione Aquilana. E adesso si fa dura per il Cugnoli. Che deve prima parigiare e poi vincere. Ricordiamo che la formazione pescarese ha un solo risultato. La vittoria per vincere questi playoff di seconda categoria a girone B. Perché è arrivata al termine della stagione regolare terza. E invece il Paganica seconda. Ancora un pallone nell'area di rigore pescarese. Alla caccia dello stesso c'è il Lombardi. Ma è troppo lungo. Mociarelli facile. Va al rilancio più alto che lungo. Ancora Di Marco. Poi Fabio Gabriele. Posizione di fuorigioco. Fuorigioco di rientro da parte di Dorato. E calcio di punizione. Ancora per i Paganichesi. Alfonsetti alla battuta. Pallone lungo. Troppo lungo. Si lamenta un po' con il compagno Fabrizio Rossi. E quindi rimesse dal fondo. Ancora una volta per Mucinelli. Cugnoli che è andato meglio nella prima frazione di gioco. In questo secondo tempo invece è meglio il Paganica che prima del gol aveva creato già due occasioni importanti. Una con Gian Bernardini che aveva calciato di poco a lato. E poi con Fabrizio Rossi che dopo uno scambio con lo stesso Gian Bernardini aveva mandato il suo pallonetto. Sempre sul fondo ma davvero di pochissimo. Ancora Di Francesco. Molto bravo il centrale del Cugnoli per Sciarra. Ma Paganica recupera con Marulli per Gian Bernardini. In qualche modo verso Castellani. Filtrante di nuovo per l'inserimento di Marulli. Però troppo lungo. Rimessa di Bucci. Lombardi cerca di prolungare ma non trova il pallone di Cecco. Avanza per l'al piede il numero 10. Cerca compagni. A destra ha trovato Gioele Sciarra. Profondità verso Gianluca Di Donato. Capitan Nico Sciarra. Fallo ma non è di questo avviso l'arbitro che lascia proseguire. E poi Gabriele che spazza in fallo laterale. Probabilmente c'era questo fallo ai danni di Di Cecco. Si riprende con la rimessa laterale. Vediamo se il Cugnoli restituirà il pallone. Di Marco ha ridato palla. Alla Paganica per la verità è il numero 9 di Donato che la fa arrivare a Mastracci. Il portiere della formazione paganichese. Se ne sono andati 24 minuti di gioco nella ripresa. Sempre 1 a 0 per il Moro Paganica. Gol di Di Marco al ventesimo minuto. Una fucilata da 35 metri per il numero 11 del Moro. Sulla quale nulla ha potuto il portiere Nuccinelli. Colpo di testa di Taci. Quindi quest'altro di Sciarra alza questo campanile Alfonsetti. Poi Castellani che non riesce ad addomesticare il pallone. Rilancio ancora di Alfonsetti. Va a dare una mano di Marco che libera la sua area di rigore. Adesso il Cugnoli cerca di spingersi nella metà campo avversaria. Fischia il direttore di gara. C'è un calcio di punizione in favore dei pescaresi. Con Di Cecco. Palla fuori. Palla fuori di Di Cecco. Battuta la rimessa. Verso Fabrizio Rossi. Protegge questo pallone. E' lui l'ultimo a toccare dice l'arbitro. Sciarra per la battuta. Si lamenta un po', non trova compagni liberi. Alla fine sbaglia la rimessa. Gian Bernardini. Tenta di far arrivare in avanti a Rossi. Ma davvero troppo lungo questo pallone. Ancora il portiere del Cugnoli che ha recuperato. Prolungato in avanti. La sfera. Attenzione a Didonato. Ma la chiusura è ottima da parte di Fabio Gabrielli. Ha voluto stoppare Bucci. Non è stato perfetto lo stop. Poi il pallone messo in aria. non trova giocatori pescaresi. Facile per Mastracci. Rinancio. Scivola. Gioele Sciarra. In qualche modo colpisce il pallone. Che però finisce tra i piedi dell'autore del gol Di Marco. Servizio per Gian Bernardini. All'indietro. Marulli. Sulla destra. Fa viaggiare Bucci che poi lascia Capitan Castellani. Parte il traversone verso Rossi. Gli toccano il pallone. E poi il portiere del Cugnoli che la prende con le mani. Non era volontario il retropassaggio del compagno di squadra. Quindi rimessa effettuata. Colpo di testa di Alfonsetti. Marulli. Alle prese con Andrea Sciarra. Poi Gioele Sciarra su di lui. Cerca di andarsene Marulli. Fa un buon lavoro. Ottiene il massimo in quella situazione. Cioè la rimessa laterale. Alfonsetti ha dato a Di Marco. Pallone in area di rigore. Gian Bernardini fuori. Protegge bene questo pallone. Poi cerca dall'altra parte Lombardi. Il rimio di Taci non è perfetto perché è un campanile sul quale Taci poi rimiene. Marulli. Aggredisce l'avversario. Ma è il Cugnoli che porta il pallone con Di Marco. Servizio per Mazzocca. Profondità. Si fa trovare pronto Mastracci. Che in un'uscita peraltro non difficile. E' preciso nell'agguantare questo pallone. Va al rilancio. Di Francesco. Esce palla al piede. Poi se lo allunga troppo. Castellani. Verso Rossi. Va a sbattere a Di Marco. Duello che si rinnova. Poi Di Marco. in qualche modo riesce a toccare la palla che termina nuovamente fuori. ventotto i minuti sul cronometro. Il Moro Paganica uno Cugnoli zero. Sfera in area di rigore. Pallone di Gian Bernardini per Lombardi. Cross ribattuto da parte di Taci. Ancora rimessa con le mani. in zona d'attacco. Per il Moro. E' Bucci che si incarica dell'esecuzione. Pallone in area di rigore verso Gian Bernardini. E' però anticipato da un avversario. Quindi Di Cecco sbaglia l'appoggio. E poi il filtrante di Marulli per Gian Bernardini. non è preciso. Sfera recuperata dal portiere. Vaggia Luca Di Nonato alla caccia del pallone. Fabio Gabriele di testa. Anticipa tutti. Poi il fallo di Marulli. Sull'altro numero quattro. Nico Sciarra. Pronto alla battuta. Pallone sul corpo di Marulli. E poi davvero buttato questo pallone da Bucci che nella circostanza avrebbe forse fatto meglio a ragionare di più. Non c'erano compagni nella metà campo del Cugnoli. E' sfera che è terminata direttamente tra le braccia del portiere Nucinelli. Fischia ancora il direttore di gara. Posizione di fuorigioco e calcio di punizione per il Paganica. Salgono i giocatori in maglia blu e Mastracci che va alla battuta. Pallone sulla destra. Colpo di testa da parte di Lombardi per Gian Bernardini. Pizzicato però in posizione di offside. Nuovo calcio di punizione questa volta per la formazione del Cugnoli. Di Marco pronto alla battuta. Rilancio di Nocitelli. Gabriele poi Alfonsetti. Quindi Di Marco che cercava Marulli non lo ha trovato. E' ancora ha vivacizzato e variegato un po' le azioni offensive del Paganica. Adesso un suo assist per Lombardi. Ottimo. Ha messo il numero 10 davanti al portiere che è stato bravissimo in uscita col tempo giusto a respingere il tiro del numero 10 del Paganica. sarebbe stato il gol che avrebbe chiuso i conti perché mancano 14 minuti al termine del match. Il Paganica è avanti di un gol a quel punto il Cugnoli avrebbe dovuto realizzare due gol per andare supplementari e qualora il pareggio fosse rimasto anche dopo i 120 minuti di gioco sarebbe stato il Paganica a passare in virtù di un miglior piazzamento al termine della stagione regolare. Il rilancio intanto del portiere Aquilano Mastracci colpo di testa dei difensori del Cugnoli direttamente in fallo laterale Bucci incaricato della rimessa proprio davanti la panchina del Moro pallone verso Mirko Gianberardini che stoppa ma solo per un attimo il pallone poi il rilancio di Donato che dà una mano in fase difensiva il rilancio ma è prontissimo Alessandro D'Alfonso Ottimamente piazzato Cugnoli che quando è in possesso di palla davvero più di una difficoltà nell'imbastire azioni offensive attenzione a questo filtrante in avanti per Andrea Sciarra Fabio Gabriele che ci mette la punta del piede chiude in calcio d'angolo meno dodici al novantesimo Di Cecco Di Cecco sul pallone dalla bandierina sale anche di Francesco in area di rigore parte il attraversone sul primo palo questa volta a intercettare Castellani il capitano del Moro Paganica e di nuovo da quel lato sarà Di Cecco a centrare in area di rigore vediamo se questa volta riuscirà ad alzare il pallone uno schema la palla al limite dell'area di rigore prova la conclusione Taci colpisce male non c'è deviazione si riprende nuovamente dal fondo preferito appoggiare a rasoterra dalla bandiera del calcio d'angolo all'indietro di Cecco non male come idea poi la conclusione di Taci però non è stata un gran che va Mastracci al rilancio nuovamente verso Rossi che non può intervenire sul pallone di Marco di testa fa arrivare al portiere rilancio nella zona di Andrea Sciarra però troppo largo questo pallone Nuccitelli che per la verità ha sbagliato più di qualche rilancio quest'oggi forse anche colpevole un po' il vento il Moro ancora in possesso di palla con Castellani bene al limite dell'area di rigore sfera che arriva Mirko Giambernardini cerca di superare un avversario poi va alla conclusione e ottiene una buona rimessa laterale in zona d'attacco Lombardi si fa vedere Gian Bernardini chiede il pallone lo ridà subito a Lombardi scarica verso Castellani passaggio filtrante ribattuto quindi D'Alfonso cambia gioco a sinistra si alza la bandierina dell'assistente vede in posizione regolare di Marco calcio di punizione battuto rapidamente dal Cugnoli che adesso necessariamente deve rischiare di più accelerare i tempi cercare di arrivare al pareggio che allungherebbe la partita ai tempi supplementari Di Cecco vola a terra il fallo da parte di Bucci calcio di punizione in favore del Cugnoli meno di dieci al novantesimo il Moro Paganica uno Cugnoli zero Di Cecco sul pallone barriera due per il Moro Paganica parte Di Cecco pallone in area di rigore la palla era davvero interessante l'ultimo tocco di un giocatore aquilano calcio d'angolo della parte opposta è sempre Di Cecco che si avvia verso la bandierina per la battuta tutti nell'area di rigore del Moro Paganica tranne Sciarra cross sbagliato basso Nico Sciarra sbaglia il passaggio parte il contropiede attenzione però in vantaggio il portiere del Cugnoli che lascia arrivare il pallone in area sull'attacco di Rossi e fa ripartire Gioele Sciarra sono un pochino saltate le posizioni in questo finale Marulli molto bene in profondità verso Rossi che cerca lo spazio per tirare lo trova poi però il destro termina altissimo sopra la traversa pallone servito al limite dell'area di rigore a Gioele Sciarra il rilancio colpo di testa di Castellani buono però sui piedi di Di Cecco pallone interessante verso Di Donato però allungato all'indietro da Bucci di testa per il portiere Mastracci rilancio al limite dell'area di rigore avversaria poi fallo ai danni di Rossi che rimane a terra si tocca il ginocchio destro non è stato un fallo cattivo quello del giocatore del Cugnoli ai suoi danni necessario però l'intervento del sanitario e intanto c'è una sostituzione tra le file del Cugnoli con la maglia numero 13 è pronto ad entrare Caroso vediamo chi è il giocatore che abbandonerà il terreno di gioco tutto questo quando siamo al trentottesimo minuto il Moro Paganica 1 Cugnoli 0 pronto all'ingresso in campo Caroso vediamo chi è chi gli farà posto intanto il mister D'Amico che dà indicazione a Taci tanto si è rialzato Rossi aiutato anche dal sanitario della formazione Aquilana esce il numero 7 Gioele Sciarra entra il numero 13 Caroso quindi secondo cambio per la formazione pescarese durante dopo l'intervallo non era rientrato in campo di Francesco al suo posto con il numero 15 di Donato adesso fuori Sciarra e dentro Caroso calcio di punizione attenzione a Di Marco è molto più vicino rispetto alla posizione da cui ha realizzato il gol del vantaggio Paganichese al ventesimo minuto di questo secondo tempo dispone di un destro fortissimo parte Di Marco pallone smorsato dalla barriera e arriva piuttosto lento tra le braccia di Nuccitelli che lo fa suo e lo rilancia fallo fallo adesso ai danni del numero 4 Nico Sciarra e viene ammonito Alfonsetti quarto ammonito dell'incontro Alfonsetti per il Paganica dopo Gabriele Iovenitti e Bucci sempre Di Cecco all'esecuzione di questo calcio da fermo meno di 5 minuti al novantesimo arriva il fischio del direttore di gara parte il traversone di Di Cecco esce Mastracci la presa è sicura va al rilancio il numero 1 del Moro poi Rossi è bravo a rubare il pallone a Mazzocca se lo trascina però in fallo laterale lo stesso Mazzocca alla battuta in avanti verso Andrea Sciarra poi il rilancio della difesa Di Donato attenzione un 3 contro 3 Di Donato però è costretto a fermarsi deve temporeggiare e il Moro Paganica recupera il pallone con Marulli che fa viaggiare sul settore di sinistra Di Marco Di Marco e Mazzocca parte il traversone in area di rigore il neo entrato Caroso con la punta del piede destro alza oltre la traversa e concede il calcio d'angolo alla formazione Aquilana nuovo cambio per il Cugnoli Chiola il numero 14 in campo tenta il tutto per tutto il mister Pescarese Chiola deve aspettare che esce il compagno prima di fare l'ingresso in campo fuori Andrea Sciarra dentro Chiola intanto calcio d'angolo per il Moro Paganica Di Marco dalla bandierina colpo di testa di Francesco che mette fuori poi la botta da parte di Rossi violentissima ma centrale ha respinto Nuccitelli ma ancora Paganica a sinistra cross in area di rigore ancora il portiere Nuccitelli questa volta sulla testa di Fabio Gabriele che commette tra l'altro anche fallo dunque Paganica vicinissima al raddoppio con questa botta di Fabrizio Rossi però centrale Nuccitelli tutto sommato ha avuto vita abbastanza facile Lombardi pallone servito a Mirko Gian Bernardini va alla conclusione insidiosa gli rimbalza davanti a Nuccitelli e in qualche modo riesce con la punta delle dita a deviarla pallone in calcio d'angolo nuovamente chiamano Di Marco alla battuta con il destro l'arbitro allarga le braccia in direzione di Di Marco come a dire di accelerare un po' i tempi naturalmente il Paganica non ha nessun interesse a battere rapidamente questo corner tutto pronto adesso con Di Marco dalla bandierina parte il traversone e il pallone che finisce in rete ancora Di Marco c'è stato l'autogol ma ancora Di Marco decisivo ottimo ottimo cross dalla bandierina di Di Marco il pallone si stava infilando in rete in qualche modo Nuccitelli con le mani è riuscito a ricacciare il pallone ma la sfera è schizzata sulla schiena di un avversario è caramburato in rete il Paganica al 44esimo minuto il Moro Paganica al 44esimo minuto della ripresa va sul 2 a 0 adesso Mission Impossible per il Cugnoli che in un minuto di gioco più recupero dovrebbe segnare due gol per andare supplementari praticamente quasi impossibile anche perché la formazione pescarese a dirla tutta nei 90 minuti di gioco ha davvero creato pochissimi pericoli alla formazione del Paganica e sarebbe difficile adesso fare due gol attenzione ancora al Paganica con Gian Berardini che serve Rossi qui forse ha tentato il colpo ad effetto il colpo per la platea con il tacco e ha mandato alto dicevamo è stata una partita equilibrata nel primo tempo senza occasione da una parte e dall'altra fatta eccezione per il calcio di rigore che il Cugnoli ha sciupato al 42esimo del primo tempo con Di Cecco che ha mandato sulla traversa nel secondo tempo invece meglio il Paganica che già nei primi 20 minuti ha creato due treppale gol poi al ventesimo il gol da 40 metri di Marco e adesso il raddoppio al 43esimo minuto è stato un autogol anche se tutto è nato dal corner abbattuto dallo stesso Di Marco che Nuccitelli ha ricacciato praticamente dalla porta con la sfera che è schizzata sulla schiena di un compagno ed è carambolata in rete Cugnoli adesso che recupera il pallone ma ancora Paganica che va a mettere una palla in mezzo facile per Nuccitelli richiama Mauro Scimi ai suoi a rientrare in difesa sul rilancio del Cugnoli non abbiamo visto l'entità del recupero ma siamo già un minuto oltre il novantesimo il Moro Paganica due Cugnoli zero pallone intercettato a centrocampo Gian Bernardini eccolo ancora Gian Bernardini se ne va in mezzo a due avversari a sinistra Marulli chiama palla la riceve va in chiusura Mazzocca Marulli vertice dell'area di rigore scivola sul terreno viscido qui al comunale di Popoli poi il Cugnoli sbaglia tutto nella ripartenza e Castellani recupera la sfera con Di Marco ancora chiamato in causa Capitano Castellani che lascia sfilare e poi c'è il fallo di Francesco un po' gratuito si va a prendere il cartellino giallo con Castellani che rimane a terra si rialza senza che sia necessario l'intervento del massaggiatore e quindi il Paganica può riprendere naturalmente c'è molta delusione tra i tifosi del Cugnoli che cominciano ad abbandonare le tribune grande festa invece per i tifosi del Moro Paganica arrivati in un numero vicino alle 150 unità qui a Popoli per sostenere la propria squadra il Moro che li ha ampiamente ripagati vincendo questo finale playoff di seconda categoria girone B e quindi per il Paganica si avvicina l'accesso in prima 2 a 0 il punteggio sul Cugnoli di Donato poi Sciarra Taci cross sul secondo palo nessuno ci arriva di testa palla messa fuori Mazzocca ultimi sussulti da parte del Cugnoli quarantottesimo nel secondo tempo sempre 2 a 0 per il Moro Paganica Mirko Giambernardini Paganichese Doc ricordiamo giovanissimo nel Paganica che vinse l'eccellenza vent'anni fa e adesso fischia l'arbitro e Mirko Giambernardini con tutti i suoi compagni può festeggiare la vittoria di questa finale playoff del campionato di seconda categoria girone B e può festeggiare il ritorno del Paganica in prima categoria dopo un po' di anni di assenza partita come abbiamo detto primo tempo piuttosto equilibrato con zero palegol né da una parte né dall'altra clamorosa occasione per il Cugnoli a tre minuti dalla fine del primo tempo con un rigore fallito da Di Cecco che ha mandato sulla traversa secondo tempo invece a favore nettamente del Moro Paganica primi venti minuti tre pallegol poi il gol da trentacinque metri di Di Marco e poi quello del due a zero al quarantatresimo minuto sul finale ancora Di Marco dalla bandierina che ha calciato benissimo il Conner praticamente dentro la porta ha ricacciato il pallone Nuccitelli però facendolo carambolare sulla schiena di un compagno e quindi lo ha visto infilarsi in fondo al sacco il Moro Paganica vince due a zero sul Cugnoli e sale in prima categoria dopo aver chiuso in seconda posizione la stagione regolare vince il playoff nei novanta minuti regolamentari con una doppietta diciamolo di Di Marco e dimostrando di essere più forte però di questa formazione pescarese il Cugnoli che in questi novanta minuti ha davvero creato ben pochi problemi al portiere Mastracci possiamo chiudere qui da Popoli Roberto Fusco Junior alla telecamera e Liseo Vallogno che vi ha parlato vi ringraziano di essere stati con noi vi danno appuntamento alle prossime occasioni sportive a risentirci Siamo con Mauro Scimi al termine della finale playoff del girone B di seconda categoria abruzzese vinta dal Moro per 2 a 0 dopo tanti anni Paganica che ritorna in prima categoria sensazioni proprio a fine partita Le sensazioni sono fantastiche ecco hai detto una cosa giustissima ritornare in prima categoria con l'impegno di una società forte di una società seria con un presidente con entusiasmo giovane che ci segue ci dà forza ci dà spirito ci dà tutto è fantastico perché Paganica merita ben altro Torniamo alla partita di oggi cominciamo con la partita di oggi primo tempo equilibrato con una sola occasione per loro sul calcio di rigore sbagliato nel secondo tempo Paganica che si è dimostrata più forte e dobbiamo dire poi in tutta la partita Mastracci non ha fatto una parata quindi vittoria più che meritata mi pare guarda la partita l'avevamo studiata a fondo perché con loro sono state sempre due partite molto vivaci e sì il calcio di rigore è stato un episodio fallito ma giocare il primo tempo con un vento clamoroso era quasi impossibile eravamo nella metà campo dove il campo era orribile non riusciamo a tenere palla e si andava in difficoltà sulla seconda palla perché la palla rimbalzava male poi il secondo tempo siamo usciti perché i miei ragazzi sono fantastici ho dei ragazzi seri tecnicamente validi propensi al sacrificio atleti e non solo che lavorano tutto il giorno io sono contento sono contento per me soprattutto ma per il mio amico Alessandro che con impegno ha costruito una squadra alla quale nessun'altra società poteva ambire senza spendendo un euro io sono felice per tutta la gente che c'era hai visto la coreografia bello 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 ringrazio tutti ringrazio voi ringrazio chi ci segue ringrazio i ragazzi e una cosa se mi permetti vorrei dirgli io vi amo grazie un'ultima domanda io mi vorrei fermare un attimino su Mirko Giambernardini è stata una mia sensazione oppure i primi 20 minuti del secondo tempo con Mirko lì davanti insieme con Rossi insomma la manovra ha avuto insomma qualcosa di anche più vivace qualche idea in più insomma un ragazzo che ha 40 anni ancora fa la differenza hai detto bene ragazzo Mirko è una persona splendida spero di riuscire una volta fatto il campo a far intitolare anche il campo a suo pari perché Pasqualino era una persona speciale come lui e niente Mirko ha avuto dei problemi durante il corso della stagione insieme a lui abbiamo sempre deciso se voler giocare o meno perché lui dà qualità quantità tecnica e niente a fine primo tempo io gli ho chiesto Mirko che vuoi fare e lui mi ha detto mister 10 minuti e fammi entrare bisognava gestirlo così non per i 40 anni perché Mirko è un atleta professionista ancora tuttora però ecco qualche problemino fisico il lavoro mi ha obbligato ad usarlo centellinandolo però sono felice perché hai visto Mirko Ciamberardini è il mio capitano è il nostro capitano spero gli auguro tutto il bene di questo mondo e niente l'hai visto anche tu è normale con Mirko cambia la partita tu che sei stato un grande portiere gol da 35 metri il primo responsabilità del portiere o davvero fortissimo quel tiro di Di Marco allora l'ho detto prima c'era il vento a favore quindi Aladino già un bolide di suo naturale con il vento a favore quella palla è andata a 200 all'ora però non do colpa al portiere perché se hai fatto caso l'area e la linea di porta l'area piccola di quella porta è tutta rettapezzata di erba sintetica Michele Lombardi clamoroso errore davanti al portiere perché gli è rimbalzata male ecco credo che il portiere sia stato ingannato non solo per la velocità e la potenza del tiro di Aladino ma anche dal rimbalzo così un po' bizzarro Diego Alessandri presidente del Moro Paganica oggi grande soddisfazione per questa finale playoff vinta e soprattutto per il salto in prima categoria sì bella partita sono molto soddisfatto dei ragazzi insomma è andata bene come è andata adesso pensiamo a divertirci a goderci staserata e poi pensiamo insomma un po' più al futuro Paganica che mancava da tanti anni insomma almeno a livello di prima categoria Paganica anche stata protagonista di eccellenza promozione eccetera che cosa significa per voi questo ritorno insomma sulla scena calcistica aquilana in un campionato comunque importante beh io penso che per Paganica è un buon risultato quindi non ci possiamo proprio lamentare dell'andamento devo ringraziare tutto quanto lo staff e comunque con me ha collaborato quindi dal mister al direttore sportivo quindi devo ringraziare tutti quanti i ragazzi e anche tutti i giocatori che comunque hanno fatto diciamo questo campionato quest'anno sono veramente soddisfatto un salto di categoria anche per i tifosi che abbiamo visto oggi numerosissimi Paganica insomma si è tornata ad avvicinare al calcio ad innamorarsi del calcio con voi sì Paganica ha risposto bene erano tanti anni che comunque aspettavano questo risultato va bene così siamo veramente soddisfatti grazie anche a voi per la collaborazione Alessandro Ciampa direttore generale del Moro Paganica naturalmente grande soddisfazione per questa vittoria nella finale playoff del girone B di seconda categoria il segreto per costruire una squadra così bella che gioca così bene e soprattutto che vince il segreto prima di tutto è il mister che è in grado di mettere insieme delle giocate degli schemi di far giocare la squadra in modo eccezionale e poi il segreto più forse più importante è quello di mettere tanti giocatori con tanta voglia di giocare a pallone senza grilli per la testa che lo fanno solo per passione e che comunque vengono sempre allenarsi tutti i giorni tutte le volte noi ci alleniamo la sera alle otto e mezza il freddo la neve hanno sopportato tutto questo per raggiungere questo obiettivo noi inizio anno sapevamo che comunque avremmo messo a disposizione del mister una squadra competitiva non pensavo di arrivare a questo punto come favorita perché sapevamo che playoff era il nostro minimo obiettivo raggiungibile e alla fine invece abbiamo meritato sia la vittoria oggi sia andare in prima categoria eppure oggi contro la squadra che è arrivata dietro di voi in campionato praticamente non c'è stata storia a parte l'episodio del rigore sbagliato da loro però in realtà il vostro portiere non ha mai subito un tiro in porta e il secondo tempo quando ci si aspettava un Cugnoli che doveva vincere per forza è invece venuto fuori il Paganica e ha letteralmente dominato la partita quindi insomma una differenza piuttosto notevole in campo beh guarda noi in campionato abbiamo affrontato due volte il Cugnoli siamo stati l'unica squadra che ha vinto sia l'andata e sia ritorno fuori casa nel campo loro hanno fatto una sola sconfitta facci complimenti al Cugnoli perché è una squadra tosta gioca bene a pallone e oggi forse anche loro come noi sono stati un po' penalizzati al terreno di gioco però noi sapevamo di essere superiori sapevamo che comunque anche in caso di pareggio saremmo andati in prima loro forse nel primo tempo hanno dato il massimo che potevano dare e nonostante tutto noi siamo chiusi bene sempre grazie al mister che ci ha messo in campo in modo splendido non hanno avuto grosse occasioni se non quella del rigore causato da un rimbalzo del pallone che ha ingannato il nostro difensore fatta quell'occasione loro poi al secondo tempo anche con un po' di vento a favore non c'è stata storia 2 a 0 risultato tondo poteva essere anche più rotondo però va bene così ci accontentiamo e adesso ci godiamo questa vittoria la classica frase è questa adesso festeggiamo da domani pensiamo al futuro qual è il futuro del Paganica in prima categoria che obiettivi ci sono immagino che una piccola idea ve la sarete fatta qualche discorso lo avrete fatto ma guarda la nostra prima regola è sempre quella di creare una squadra dove ci sono giocatori che hanno voglia di giocare a pallone noi sono due anni che facciamo una squadra con T'Agente del Posto e con qualche giocatore che in passato ha già lavorato con me e con il mister Maroschimia quindi conosce la nostra mentalità e sposa in pieno il nostro progetto quest'altro anno sappiamo che andiamo ad affrontare una categoria differente da questa dove ci vuole più impegno più allenamenti più sacrifici non ci mettiamo grilli per la testa perché il nostro obiettivo quest'altro anno sarà quello di fare meglio possibile poi nell'arco dell'estate abbiamo già le idee chiare perché abbiamo già fatto questa categoria in altre società quindi sappiamo quello che serve per fare bene speriamo di riuscire a portare quei giocatori che noi crediamo possano far bene e che ci diano una mano Aladino Di Marco numero 11 del Moro Paganica oggi uomo partita terminale offensivo delle azioni del Paganica un gol da 35 metri hai tirato in porto oppure hai tirato una palla in aria sperando in un tocco di un compagno magari come sanno tutti ho tirato in porta abbiamo provato in settimana diverse soluzioni con il mister e ci siamo allenati molto bene le ultime due settimane il gol è frutto di un anno di sacrifici da parte di tutti da tutta la società fino ai magazzinieri i massaggiatori i compagni tutti un grande ringraziamento lo faccio al mister Mauro Scimmia che è stato fantastico sia nei momenti difficili a mantenere calmi gli animi e sia nei momenti di gioia nel calmare gli animi e quindi continuare sulla retta via oggi è stato un anno per me emozionante perché comunque sia giochiamo siamo tutti ragazzi che lavorano alcuni hanno famiglia e tolgono tempo i loro figli per venire a giocare quindi questo non fa altro che coronare il nostro sogno quello che è successo oggi è stato fantastico quindi ringrazio tutta la società che ci ha dato l'opportunità di metterci in mostra oggi con tutto il nostro sapere a cominciare dal mister Mauro Scimmia come ripeto che rispecchia il mio carattere appunto ho scelto ho fatto ho sposato questa società per questo motivo invece ci devi raccontare il secondo gol perché tirare dalla bandierina già prendere la porta è difficile poi con quella forza perché mi pare che il portiere ha avuto molta difficoltà a tirarla fuori sì faccio i complimenti al portiere loro perché è stato uno dei migliori portieri di categoria superiore come ripeto in settimana le ultime due settimane ci siamo allenati molto bene con dedizione sulle palle ferme e abbiamo tirato circa 50 punizioni da tutte le parti del campo quindi il mister è stato molto selezionato a fare questo tipo di allenamento e oggi purtroppo mia mamma ha fatto questo testo che comunque sia ringraziando Dio oggi è andata a buon fine Paolo Marulli centrocampista del Moro Paganica grande apporto a questa squadra grande vittoria e quali sono le sensazioni adesso? Le sensazioni bellissime abbiamo concluso un anno secondo me straordinario grazie all'aiuto di tutti del mister dirigenti giocatori non potevamo non vincere la finale dopo tutto l'impegno che ci abbiamo messo e penso sia anche meritata la promozione qualche occasione anche per te oggi negli inserimenti non si è chiuso bene qualche triangolo se no avresti messo lo zampino anche tu no alla fine ci volava un po' che il bagno il campo era un po' umido quindi ci volava alla fine però l'importante è che abbiamo vinto secondo tempo siamo saliti fisicamente e tatticamente un grazie a Mirko Gian Melardini il capitano che secondo me ha fatto la differenza quando è entrato e penso che sia stata meritata la vittoria grazie 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 a tutti